editiamo 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 7 , 3 , 7 , 3 , 4 , 3 , 4 , 4 , 4 ,5 , 4 ,5 , 6 , 5 ,5 ,6 , 7 . guarda questo il disco tutto uguale via, dietro dei tai bambi continuo passiamo ademacciato bamba c'è la lei due, tre, quattro cinque, sei, bambi dietro bambam, bambam, del popete uno, due, tre quattro ok? bambam, bambam come prima tutto come prima però adesso non vado non ho fatto questo adesso rimango qua prima che ci sarà 1,2,3 questa è la cosa più facile 4 giù 1,2 prima cosa da fare G1 leva G1 1 2 prima leva S12 già qua guardatevi l'abatto adesso qua si va bene 1,2,3 4,5 6 4 3 4 3 3 4 5 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 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 9